Ciao ragazzi ed eccoci qua in un altro spacchettamento su clash royale questo lo porterò da adesso in poi tutti i mesi perché il baule costruibile si apre insieme a voi sempre e quindi ragazzi oggi ci riapriamo questo baule costruibile sempre lo sfidante 1 su instagram potete trovare i leggendari che ho trovato a settembre che non vi ho fatto vedere su clash royale perché non ho fatto video più di tanto a settembre su clash royale e quindi ragazzi li trovate lì perfettamente lì su instagram bene io sono pronto non possiamo schippare e aprire gli altri baule quindi dobbiamo aprire per forza il baule costruibile e bene iniziamo ad aprirlo secondo voi cosa ci troviamo? io sarei felice se trovassimo come cazzo i verbi vabbè ragazzi i verbi mettiamoli da parte oggi trovassimo ripeto trovassimo il gran cavaliere bene andiamo oro ci siamo vabbè prendiamo questi però non li utilizzo intanto no torre bombandiera e cerbottaniere direi cerbottaniere però non utilizzo pure quello boia e poi leggendaria io direi voglia già posso potenziarlo il draghetto dai tanto non lo miglioro vediamo nuovo dai sì sì ragazzi sì 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 ragazzi no vabbè ragazzi no vabbè vabbè no screen scusatemi ma lo screen ci sta porca puttana no ragazzi no ragazzi no vabbè mamma mia emozione troppa emozione secondo voi vado a scegliere il boscaiolo ma ma no di certo il gran cavaliere l'avevo detto prima ma sono emozionato mamma mia quanta roba mamma mia allora abbiamo il baule omaggio ops volume coperto non troveremo niente ma sono contento così ragazzi non me ne frega nulla proprio allora che non ci troviamo niente per un cazzo oro cura sgherri in cavolo proprio oro c'è portaniere gigante loial vabbè 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 offerta niente ed eccola qui raga ed eccola eccola qui eccole infatti potete vedere anche leggendari però vabbè e ragazzi guardate quanto è bella 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 sta carta bene allora manca il baule gigante non troveremo nulla andiamo mi pecca valchia e spirito del ghiaccio vabbè 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 abbiamo sta carta sempre la solita lorda ed apriamo questo baule del clan oro domatore barbari cannone dieci moschettieri tre moschettieri scusate sfera niente ragazzi niente niente ragazzi per me grazie comics grazie 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 per me va bene così abbiamo trovato la nostra carissima carta il gran camaliere che ho già detto speriamo che riusciamo a trovarla e se mi usciva veramente questa bastarda mi incazzavo di brutto o se usciva logicamente un'altra leggenda fra queste qua ragazzi una gioia infinita grazie grazie clash royale finalmente una gioia finalmente grazie grazie mille ragazzi prima di finire il video vi vorrei parlare un po' della nuova modalità quindi ci spostiamo al computer come stare vedendo ragazzi questa è la nuova modalità logicamente vi sto facendo vedere un pezzo un po' come funziona è tipo rugby che l'avversario dove deve arrivare nella linea quella più con spessore cioè dall'altra parte adesso come vedete vi sto facendo un attimo vedere ecco quelli con la fulmine hanno fatto il punto perché la mongolfiera perché la mongolfiera gli è arrivata nell'altra sponda e quindi anche 3 milioni di iscritti questo video questa live è uscita il 30 settembre precisamente e ha fatto soltanto 2 milioni e 130 mila visualizzazioni io direi un po' poco eh veramente boh mi sembra poco poche visualizzazioni non lo so voi ditemi cosa ne pensate vabbè ebbene ragazzi questo spacchettamento può finire così mamma mia ragazzi quanta roba mi sono veramente emozionato perché l'ho chiesto quella carta e clash royale stranamente mi ha sentito mamma mia una quanta roba comunque lasciate like se vi è piaciuto il video per altri spacchettamenti come vi ho detto all'inizio del video ci saranno questi spacchettamenti una volta ogni mese così abbiamo il paure costruibile insieme a voi e quindi ragazzi lasciate like qui non è scritto iscrivetevi subito seguitemi sui miei social qua sotto instagram e telegram secondario per adesso diventato corello telegram che sto tralasciando sempre di più ma instagram ha pure le stories quindi telegram non ti offendere ti ho sempre utilizzato quindi telegram per favore non ti offendere e quindi ragazzi vi saluto eeeeeee ciao ciao